Non solo legno, è un'iniziativa importante per la Vallanzasca. Certamente, è un'iniziativa che noi vogliamo e ci teniamo veramente tanto a promuovere per promuovere il nostro territorio, per cercare di migliorare il nostro territorio e cercare di sfruttare le opportunità che, per quanto non siano molte, il nostro territorio dà. Pertanto abbiamo deciso, insieme a altre due ragazze, Tania e Claudia, di fare questa fiera. Si terrà il 25, il 26 e il 27 aprile. Il 25 ci sarà un'apertura alle ore 17 con l'inaugurazione e poi dopo avremo il 26 e il 27 delle bancarelle con espositori sia per quanto riguarda prelibatezze, per cui a parte culinaria, sempre legata al nostro territorio e poi comunque espositori inerenti al legno. Oltretutto avremo delle passeggiate per promuovere sempre il nostro territorio e poi anche dei perfetti laboratori sia per i bambini che anche per gli adulti. Laboratori di intaglio, vittura su legno e poi abbiamo avuto anche la possibilità di avere tiro con l'arco. Abbiamo anche delle dimostrazioni di tree climbing, tutto fatto nei comuni di Vanzone con San Carlo e di Cepo Morelli. Speriamo, come già stato detto, nel bel tempo perché sono tutte manifestazioni che si svolgeranno all'aperto. Ringraziamo l'Ossola Outdoor Center per lo spazio e per la gentilezza che ci ha lasciato, visto che ci ha permesso sia di fare questa bellissima presentazione, sia per poter esporre tutti i nostri manufatti. Ringraziamo le associazioni che ci stanno proprio dando la mano fisica per preparare questa fiera. Gli operatori del legno, proprio del settore del legno, che ci danno le logistiche ma ci danno anche proprio una mano fisicamente anche loro per questa promozione. La scuola media, visto che stanno preparando per la nostra fiera una mostra ad hoc. E poi le amministrazioni comunali, quelle non dobbiamo dimenticarle perché senza la loro ospitalità non potevamo fare nulla.